guarda che si capisce che sei sola e da che si capisce non fare come me che quando mi volevo non li scartavo tutti voleva sempre in giro vestito così la sera una specie di smoghi ma che ci fai qua ma che è venuto per far la rabbia non ho bisogno di una reggia che se restasse che sono queste lettere quanta rei significa tutto passa io se mi faccio un tatuaggio ci scrivo niente passa ciao edoardo siamo qui con edoardo di lernia innanzitutto grazie per aver scelto noi come prima intervista quindi grazie a voi e innanzitutto come stai tutto bene grazie bene bene allora tu edoardo debuti sul grande schermo in sulla giostra di giorgia cecere e innanzitutto ti voglio chiedere come si affronta un debutto a livello emotivo dentro e fuori dal set penso che sia anche abbastanza soggettivo come come cosa però per me per esempio è stata abbastanza all'inizio è stato abbastanza difficile per quanto riguarda l'ansia quindi a livello emotivo è stato un po' complicato poi però col tempo comunque mi sono abituato comunque essendo la prima esperienza penso sia anche normale però stando sul set mi sono abituato e poi è venuto tutto più tranquillamente senza senza troppe senza troppe ansie e nel cassetto dei due sogni c'è sempre stata la la recitazione in realtà no è nato tutto l'anno scorso con questo con questo con questa esperienza e mi ritengo anche abbastanza fortunato perché non penso sia non penso tutti abbiano questa questa fortuna di partecipare a un film senza aver studiato poi è anche secondo me sarà stata anche per te una grande emozione perché non solo debuti sul sul grande schermo ma hai debutato anche in un in un festival perché il film è stato presentato al b fest ecco ti vai di raccontarci la questa esperienza sì è stata un'esperienza molto molto bella appunto essendo stata la prima esperienza non avrei mai immaginato di ritrovarmi lì lì in mezzo e vedermi in terza persona sul grande schermo comunque a un festival è stata un'emozione abbastanza abbastanza grande soprattutto con molte persone all'interno della sala e chi c'era lì a sostenerti? amici principalmente mamma e la zia nel film sulla giostra interpreti Davide il figlio di Rene che è interpretata da Claudia Gerini tu sei un po' il tuo personaggio un po' ribelle come tanti ragazzi e ragazze ecco come ti sei preparato per questo ruolo? ma non c'è stata una preparazione in particolare perché comunque Davide appunto è un ragazzo come 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 me come tutti quanti i ragazzi al giorno d'oggi quindi non non c'è stato niente di di nessuna preparazione in particolare mi ci rivedo abbastanza eh come situazione quindi è venuta abbastanza mh spontanea come come interpretazione e come vedi la tua generazione al al giorno d'oggi? ci sono un po' i lati positivi e anche quelli negativi eh diciamo che ormai si tende molto a a bruciare le tappe essere ehm a dover fare qualcosa come se eh se si fosse obbligati perché se no ehm come se se venissi poi giudicato se se non facessi determinate cose durante la preparazione del film avete avuto un momento di confronto tu e Claudia eh Gerini magari ti ti ha ti ha dato qualche consiglio qualche dritta che ti ha assolutamente tantissimo tantissimo è stata molto molto gentile con me eh mi ha aiutato molto mi ha dato determinati consigli soprattutto eh nelle scene che ho affrontato insieme a lei e infatti sono sono molto contento di aver incontrato una persona così disponibile non penso sia sia da tutti comunque c'è un personaggio di una serie o di un film che hai visto recentemente e che ti avrebbe fatto piacere interpretare e perché? mh in particolare no però mi è sempre mi è sempre piaciuto eh interpretare magari un ragazzo eh difficile con con problemi non so non so perché mi affascina questa questa cosa eh depresso eh con un passato complicato mh mi piacerebbe un sacco interpretare un personaggio del genere è un personaggio del genere diretto da di Sorrentino in questo momento ti ti stai godendo un po' l'adrenalina la la felicità no di questo nella prima volta sullo schermo ed è giusto appunto che che sia così ma ci pensi al domani cioè se pensi poi al futuro cosa vedi? mh è difficile come domanda io spero spero in un futuro come in una carriera però da attore però comunque bisogna dedicarci tanto tempo tanto studio e sto iniziando a a percorrere comunque i primi passi in questo mondo vedremo vedremo come andrà però comunque so che mi ci impegnerò al cento per cento e quant'è importante lo studio in questo? fondamentale fondamentale c'è qualcosa che vuoi dire ai ragazzi che stanno intraprendendo un sogno che sia nel cinema nella musica in qualsiasi in qualsiasi ambito? di portare avanti sempre comunque la propria passione senza che prima o poi arriverà arriverà il momento per tutti ovviamente studio e anche un po' di fortuna ci vuole quella non guasta mai Edoardo io ti ringrazio ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per l'uscita di questo film e te ne auguro tanti 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 altri grazie grazie mille ciao ciao buona giornata